Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, l'altra volta per un pedo, proprio per tanto, siamo riusciti ad avvicinarci a Joker, ma non l'abbiamo preso, però secondo me ci stiamo andando molto molto vicino. Naturalmente com'è stato di un video che possiamo mettere un po' in su, un bel commento, un bel mi piace. Mi dimenticavo, siamo sempre qui su Batman Arkham, Google? Asylum. L'ho fatto dire da lei perché così è più tranquillo. Ok, quali sono gli obiettivi che dobbiamo fare oggi? Dobbiamo recuperare le spole della pianta, in realtà va, di Killer Croc e parla con Arrow Crash nella residenza di Arkham, quindi in pratica dobbiamo ritornare completamente fuori perché dobbiamo arrivare qui giù. Quindi è meglio che ce la diamo, anche la libera è questa. Non credo di beccare altre persone, no. Lo voglio molto, non mi permetterò di far sottire ancora le mie catture. Non posso prendere i luoghi a lasciare. Ma chi è? Ivy. Ma non credo che è sto co... Oh, porca paletta. Perché ci ha fatto questo? Oh, chiavolo. Oh, chiavolo. Oh, chiavolo. Il titan deve avere un effetto diverso su Ivy. Le sue piante stanno crescendo. Fra poco saranno fuori controllo. Ma giusto un tantinello stanno crescendo. Ma parca... Che gli è dato? Mangi. Sembra che le piante subiscano un'altra mutazione. Se l'ha lì. È schiattato. Il patate è che non c'è... contiene delle spore simili a quelle che ha usato Ivy per attaccare Gotham l'anno scorso. Sono mortali. Ok. Non è che dobbiamo ammazzarli. No, ok. Ammazza, sì. Come no? Sono più aggressivi, praticamente. Ah, vabbè, ok. Oh, ragazzi. Che palle. Cioè, voi correte così sempre ogni volta. Mi devo morire un attimo del battrango, così facciamo prima, eh. Vai. Dove sta? Ecco qua. Anzi, facciamo il multiple, così siamo a posto. Allora, dobbiamo andare di là proprio. Come sta la faccia di... Ah, per cui ti andrì una cosa, ma lo riesco... Ok, no. Eh, eh, eh. Non facciamo i monelli, eh. Ok. Mi sa che da qua dovremmo farcela, eh. La vop è un po' a volte difficile da capire. No, di qua dobbiamo andare, secondo me. Sì? Yes, ok. La direzione sembra quella giusta, vai. Ah, sti cosi li possiamo fregare, no? No. Eh, però mi attaccano. Ok, da qua... Ah, eh, si ho fregato. Ah, da qua non riesco a passare. Ok, vediamo se c'è un punto. Ok, qua. Trovato. Entra. Perfetto. Possiamo entrare? Forse. Allora, sì. L'ingresso è questo. Dobbiamo andare a diritto. E sembra anche abbastanza spetta. Troppo impulsivo, troppo impulsivo. Aspetta un attimo, Batman, aspetta. Mi sono schiatti. Allora, dobbiamo un po' dove possiamo andare. Mi sa che devi volare. Allora, facciamo così, guarda. Forse così andiamo meglio. Ok. Così ce l'ho fatta. Ma non dobbiamo capire se posso scendere. No, non puoi scendere. Allora. Vediamo un po'. Ci siamo? Sì, ci siamo a quest'altra parte. Adesso dovrei andare giù praticamente. Penso. A meno che non c'è qualche punto. E qui in alto che puoi scendere. No. E anche di qua posso scendere? No. Sto lasciando di qua, eh. Perfetto. Che fai che anzi mi fai pensare che non stai bene? Adesso si muovono. Ok. Quindi si fanno anche più pericolose. Allora, ci sono dei brutti ceffi. La possiamo... No, la metto. Potevo salire, bravo. Saliamo. Ok. Il battrango nemmeno possiamo utilizzarlo. Aspetta, forse così posso fare. Va bene. Perfetto. Ok. Adesso sembra facile. Ok. Attenzione che qua abbiamo... Ah no, pensavo che fossero nemici. Pensavo che il peggio fosse passato. Siamo tutti nel mirino. Ci lasceremo la pelle. Immaginavo che fosse in giro. Qual è il problema con le piante? È complicato. Fammi indovinare. Poison Ivy. È in combutta con Joker? L'importante è che io riesca a impedire che le piante ricoprano tutta l'isola, ma... C'è sempre un ma, vero? Eh, c'è sempre un ma. Dove tenete Killer Croc? Ho trovato una porta nelle fogne, ma è sigillata. Il mostro ha la sua cella personale. È tornato in terapia intensiva sotto la stanza di trasferimento. L'ascensore scende nella vecchia fogna. Gli portiamo un po' di carne ogni tanto e cerchiamo di non pensarci. Ma è sotto chiave, più controllato di Joker. Non si può entrare senza l'autorizzazione del direttore. A lui il codice. Grazie Cash. Resta qui e non avvicinarti alle piante. Cash si chiama questo? Cash. Ok, con questo abbiamo parlato. Adesso quindi dobbiamo, penso a questo punto, parlare con Killer Croc. Ok. Sta anche qua vicino. Dove stiamo? Scusate. Pardon. Ok, siamo vicini. Vediamo un pochettino se da qua... Batman, tutte le strade che portano in terapia intensiva sono bloccate e non riesco a bypassare la sicurezza. Oh. C'è un cecchino sul tetto. Lui è riuscito ad arrivarci. Devo trovare il modo. Ok, ho capito. Questo sta qua di fronte, eh. Allora, ci possiamo arrivare da là facendo il salto, però c'è un problema. La devo forse prima beccare col battrango e poi possiamo fare il volo, penso, no? Perché sennò questo ci vede. Vi vedete. Aspetta, eh. Non vorrei che... Vai veloce, vai. Ok. Dai. Dovremmo farcela così. Ok, ha funzionato, ha funzionato. Pensavo che era più difficile di quello che era, invece è stato abbastanza facile. Basta ragionare un po' col cervello che ci scureggia. Vabbè. Ingresso di manutenzione. Dobbiamo andare in fondo. Sembra facile. Ecco, ecco, appunto, appunto. Meno male, se fosse mi stavo zittura meglio. Vediamo se da qua possiamo passare. Certo, se già ci fa entrare e ci crollo già il soffitto addosso. Sto rilevando attività sismiche su tutta l'isola di Arkham. Ma no! Le piante di AI vi stanno avendo il sopravvento. Devo fermarle se voglio evitare che l'isola resti soppolta. Perché mi fai salire di là? Vabbè, proviamo a infilarci, ma qua dentro. Perché, ecco, infatti, da qua dovevamo andare. Ho visto anche il coso del legumista. Ma non credo che... Ok. Allora, non ho capito dove siamo, eh. Da qua non riesco a saltare? No. Ah, da qua, da qua. Da qua, da qua, da qua. Passa da qua, vai. Ok. Ah, fantastico. Abbiamo beccato il coso. Vabbè, allora dobbiamo andare all'altra parte. Vabbè, non fa niente. Come non detto. Dovevamo andarcene da là. Vabbè. Sapete che fosse una volta e non sbagliamo strada. Noi sbagliamo sempre strada. Vabbè. Allora, di qua penso... Penso. Sicuramente sarà quella. Ecco. No, è quella giusta, è quella giusta. Perché ci cade il soffitto addosso, quindi è quella giusta. Che dici ora quando sta piovendo? Sta piovendo, sta facendo il terremoto. Ok, apriamo di qua. Entera. Di qua non c'è niente. Ma ci stiamo facendo togliere, sono gratte. Ci stai facendo togliere. Ok. Allora, ne sono parecchi. Di qua dovremmo andare bene. Ok. Sono sceso un po' così. Ok, vai. A volte mi stanco un po'. Sono pronti? Avete piazzato gli esplosivi? Fatto. Ha appena finito anche Razor. Bene, facciamo una prova. No, no, io sono ancora... Ha funzionato. Ok. Allora, ho capito che non dobbiamo svolazzare in alto. Allora. se si fa vedere le bombe di Joker lo stendono. Sì, sì. Allora, uno ce lo freghiamo da qua. Comunque, questo ce lo freghiamo un attimo, subito. Perfetto. Potremmo andarcene da questa cavolo di isola. Però magari facciamo una bella cosa. Ci buttiamo un attimo qua. e vediamo se siamo fortunati qua. Vediamo se qualcuno arriva. Dopo apro quello e entriamo. Dai, qualcuno che viene da qua, dai. Ecco, bravo. Perfetto. Ok. Però guarda prima, sono questo. Io non penso che a me... Mamma, che rumore, che facciamo? Vediamo se riesco. Ecco. Ah, ammazza. Ok, fantastico. Anche questo l'abbiamo fregato. Eh, qua dentro mi possono nascondere, pensa, vero? Può essere che se arriva qualcuno lo possiamo fregare. Aspetta, qua c'era qualcuno di qua. Ah, ho perso l'attimo fuggente. Andate a sinistra a controllare il passaggio. Dai, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Eh, ho sentito il capo. Vediamo un po'. Ah, lo posso beccare a questo. Ok, non ti muovere. Vai. Non c'è ancora la mossa per fare... Veloce, Batman, veloce. Vai. Ok. Anche questo... Ce lo siamo fregati. Ne restano tre, eh. Quindi, attenzione. Sì, sì, vai con lui che è meglio. Mettiamoci il battrango che potrebbe essermi inutile. Ha fatto fuori uno di voi. E non in modo molto gentile. Ok. Allora, uno sta là, eh. Perché state sempre insieme? Non ho capito sto fatto che state sempre insieme. Vai. Aspetta, eh. Quello scede da là, eh. Allora, stiamo di là, anche di là. Ok. Allora, uno sta di là, eh. Ok, qua dentro non ce l'ha visto. Vai. Perfetto. Anche ora. State bene? Non avete l'impressione che voglio farti fuori qualcuno alla volta? Se si gira ci frega, eh. Ok. Dai, dai, dai. Ok. Perfetto. Ah, non... Com'è? Non è morto. Ah, non l'abbiamo ammazzato del tutto. L'abbiamo ammazzato del tutto. Aspetta. Dai, dai, dai. Perché non scendi? Perché non scendi? Vai. Ok. Aspetta che non sto capendo una mazza. Osti due mi stanno dando il tormento, eh. Devo stare attento perché... Avete visto come fanno? Fanno il trucchetto. Prima camminano e poi si girano, eh. Tipo, per esempio... Eccolo qua. Allora, questo... Dobbiamo fregare. Ah, è rimasto da solo adesso. Quindi devo cercare di non essere... Tanto... Impulsivo. Allora, vediamo un po'. Se riesco... A fregarlo un attimo. Ok. Ammazzato anche quest'altro. Meno male. Tutti morti, eh. Allora, vediamo un po' dove posso andare. Anche se io penso... Mi è venuto anche un dubbio. Secondo me potevamo anche disattivare qualcosa. Ah, perché... Ah, perché... Battrang sonico? No. Volevo migliorare. Sapete cosa? Eh... Dove sta? Detonatore. Questo secondo me potrebbe essere... Una cosa buona anche per... Eh... Noi. Allora... Detectivo l'abbiamo utilizzato. Adesso... Mi sa che dobbiamo andare di là? attenzione a non premere niente che se no moriamo, eh. Vai. Ah, tu sei un po'... Ah, sei morto, penso. Che cavolo dia di fia... Allora, devo disattivare la porta. Vabbè, ripetiamo, vai. Devo cercare di essere... Ok, uno sta qua. Ok. Aspetta che è l'ultimo. Perfetto. Mamma mia. Allora, qua abbiamo aperto tutto. Quindi, in teoria, dovremmo poter tranquillamente passare. Batman, eh. Non ho capito dove stanno, comunque. Mi pare che stanno giù, eh. Ok. Non di qua. Attenzione, eh. Mi pare che stavano di qua. Aspetta. Mi sa di... Sì? Sì. Ok. Allora. Passaggio. Sì. Perfetto. Quindi possiamo andare avanti, eh. Anche perché non vedo niente, non vedo neanche nessuno. Quindi, in teoria, dovremmo andare... Che chiamava? Oh, pensavo che si fosse fermato il gioco. E invece no. Ho detto, che cavolo è successo? Si sta frizzando la PS4. Bella ma... Oh! Adesso non è più così grande e pauroso, vero, Joker? Oh, che cavolo? Siamo Joker? Non sto capendo niente, eh. Harley, la vuoi finire biancheggiare. Sì, la faccia sembra proprio quella di Joker. Certo, parla poco, però, eh. Quindi... Oh, per cavoletto. Ehi, dolcezza, così ti parli la festa. Devo soltanto controllare il tuo prigioniero, mia cara. Che voce strana. Non ha una bella cera. Eh no. Noi, infatti, e dovremmo essere dispiaciuti. Non ha mai superato la morte dei suoi genitori. Il trauma l'ha fatto impazzire. Eh, un po', sì. Che cosa sta succedendo nella tua testa, Wayne? Eh, è andato. Ormai è solo una carcassa. Liberatemi! È tutto tuo, Joker. Bene, forza Joker, siamo pronti! Ho aspettato tanto questo momento, Batman. Diamo inizio alla festa! Con un bel batto! No, non può finire così. La missione è fallita. Riprova. Rip. Oh, porca paletta, ragazzi. Non sto capendo una mazza, eh. Porca miseria. Ci troviamo praticamente davanti alla nostra tomba, eh. Rip Bruce Wayne. Ehm, mappa, obiettivi. La mappa non c'è. Prova ad andare di qua, eh. Oh, che cavolo, spezza... Ma questo... Batman... Oh, che cavolo. Aspetta, ah, ok. Non vale che questo almeno li posso utilizzare. Ok. Devo stare attento a questo, continuo a vederci. Qua, eh. Appena si gira, vado. Vai. Oh, è bello, eh. Che cosa fa, Batman? Oh, 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 oh. Ho saputo che Joker mirava ad assumere il controllo di questa dopaia e ho pensato che fosse pazzo come tu. Ok. Quando annunciato che volevo un ospedale capace di mantenere in alterato e di avere il uso più lungo possibile, ho pensato che fosse gentrico. Aspetta, perché no... Perché sa che devo stare anche attento perché se mi avvicino troppo dall'altra parte è muro, eh. Ho pensato che non avesse... Ok. Aspetta. Andiamo avanti, vai. Questo vedi da qua? Non lo so. Non ha fatto molti progressi, ma sembra che il lavoro mi piaccia, quindi che... No, vabbè, possiamo passare. Com'è che prima ce l'ha visto, no? Come la guardia dei pazienti è presiduta da Wendatronx. Riuscite a buttare quasi tutti i pazienti. Allora, devo capire, questo che giro fa... Ok, l'acqua guarda. E guarda. Ok. Aspetta, non ho capito se là ci possiamo... Ah, ok, vi devo guardare subito da là dietro. Ecco qua. Ok. Vai. Perfetto. Ora... Ah, devo camminare da dietro. Attenzione qua, eh. Ok, quando guarda là possiamo andare. Hai paura di venire ad affrontare le tue paure? Ma anche no, ma anche no. Ma veniamo, aspetta, vai. Uh, qua ho rischiato, eh. Allora, vediamo un po' che strada devo fare perché non voglio rischiare assolutamente. Ok. Abbiamo già perso prima. Ok. Vai. Vai. E ridi. Allora, poi si gira di là, ma penso che dobbiamo andare quando si gira all'altra parte. Perché così non pensa che ce la faccia. Ah, ma ci sa pure il coso che si muove, però. Ammazza, è difficile. Aspetta un attimo, è tutta... Forse ho sbagliato. No, perché non sali? Ok. Ok. Vai, vai. Vai, vai. Veloce, 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 veloce. Ok. Che fortuna, ragazzi. Attenzione qua, eh. Attenzione qua. Allora, là, là. No, non siamo un pollo. Aspetta, aspetta. Appena si gira di una volta, passiamo, eh. E' solo che tu c'hai un culo tremendo. Ok, da qua mi posso riparare, va. Allora, vediamo un po' perché là non mi posso riparare. Sì, da, mi posso riparare, però... ...quello che ha potuto ci conviene andare. Quando guarda di là... Ah, via. Ok. Qua pure ho rischiato, eh. Attenzione alle grade. Mamma quanto guardi. Ok. Attenzione, eh. Ok. No, 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 no. Non ho fatto trasportare troppo dal momento. Credo che ne serva ancora. Attenzione. Dimmi, quali paure sono rimaste da sconfiggere? Vediamo. Ti stai godendo la dose extra, Batman? Non lo so. Ahia. Ok. Vediamo di farcela un attimo. Quindi era... ...era troppo lontano per fregarlo. Oh, oh, lontano. Sai che non l'avevo visto? Porca paletta. Ok. No, no, no. Perchè non l'anzia andata? A volte... Non è capito perché... Ok, ragazzi. L'abbiamo fregato. Stai resistendo. Eh, sì. Così indebolisci la fossa di volta. Grande, però. Ok, me l'ero spostato ma non si è spostato. Ok, vabbè, ho capito, ho capito, ho capito. È il solito che quando arriva si deve stordire. Ok, però... ...lo spazio è un pochettino troppo stretto. Anche ora. Quanto credi di poterti sopportare? Ti spaventa sapere che ti ho quasi sconfitto. Ok. Attenzione a questa che mi arriva, eh. No, no. Non è male che riesco... ...comunque a saltare... ...e a fregarlo. ...e che culo che c'hai. Aspetta, aspetta, aspetta. No! Attenzione a che qua moriamo, eh. Ok. L'ho fregato, eh. Penso. Ok. Speravo che sia l'ultima parte perché se no va al limite. È al limite. Cioè, è finita. Beccati la luce, beccati. Come ci riesci? Perché sei in Batman! Hai ingerito una quantità di tossine che potrebbe far impazzire dieci persone. Ma che cosa sei? Batman, ripeto, sempre Batman. Perché negarlo, Batman? Sei pazzo anche tu, come tutti noi. Tu hai bisogno di noi e noi di te. E per dimostrartelo, riempirò le catacombe con abbastanza gas alluminogeno da devastare elementi di Gotham per almeno cento anni. Porca paletta. E quindi dobbiamo ancora andare in fondo per recuperare. Chiavolo, è stato abbastanza complicato, però ci siamo quasi. Pensavo di arrivare molto più rapidamente. Ok, ragazzi. Anche questa parte termina qui. Naturalmente come è stato il video, come se ne va a mettere un piaccio in su, un commento, un bel mi piace. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye!